Siamo con Andrea Vianello, il direttore di Rai3 e abbiamo parlato del caso della crisi del talk show politico. Quello che abbiamo notato è che il direttore ha comunque difeso questo tipo di talk nonostante magari la formula debba essere riformulata. Sì, non voglio apparire come un conservatore, io penso che il talk vada rinnovato sicuramente che ha dato tantissimo all'informazione, alla televisione italiana e che adesso è in evidente momento di maggiore stanchezza. Penso però che sia un genere molto nobile perché appunto è un genere democratico, penso che se c'è stata una moltiplicazione del genere, quindi questa cosa ha chiaramente contribuito a una stanchezza. Vediamo su altri canali le stesse facce tante ore al giorno, quindi questo è chiaramente un problema, un problema anche che la situazione politica da raccontare è diversa da quella che è stata raccontata negli ultimi vent'anni, ma ritengo che all'interno di un canale che vuole fare informazione seria, un talk, cioè il scambio di opinioni diverse attraverso stimoli portati da un condottore e da servizi, sia un genere che ha tutta la sua forza e peraltro insomma noi ci ritroviamo in casa a re tre di questi talk così bistrattati, quello che fa maggior ascolto di tutti gli altri che è Ballarò. Quindi non pensa per l'anno prossimo di riformulare il format di Ballarò? Io penso che ogni genere vada sempre come si fa con la macchina che va fatta la manutenzione, è chiaro che anche Ballarò che è un programma che c'è da 13 anni, quest'anno ha avuto un nuovo conduttore, quindi è arrivato un nuovo conduttore con un format che non era stato disegnato su di lui, quindi chiaramente ci risenderemo un tavolo, cercheremo di adattarlo sia ai tempi moderni sia alle caratteristiche del conduttore, però insomma poi un talk è sempre un talk, quindi sicuramente cercheremo di renderlo più vicino a quello che in questo momento ci sembra effettivamente un distacco rispetto a quello che la gente vuole di racconto, ma non di Ballarò perché appunto Ballarò peraltro è quello che va meglio, ma insomma diciamo proprio di questo genere cercheremo di capire come modernizzarlo, ma sempre di talk che parliamo, non è che trasformeremo tutto un tratto Ballarò in un programma d'inchiesta, è un talk e ci sarà bisogno di inventiva, di innovazione, di intelligenza da parte del gruppo autorale e speriamo di riuscire a trovare un Ballarò 2.0. Abbiamo anche commentato il fatto che adesso si prende anche in considerazione quanto il talk show viene seguito tramite i commenti che vengono fatti attraverso Twitter, attraverso Facebook, lei pensa che debba essere un dato preso maggiormente in considerazione? Io penso che sia un segnale importante, non è automatico che ci sia tanta vivacità sul web e che ci siano ascolti, anche per la variegata differenza del pubblico, però penso che un programma soprattutto che voglia fare opinione, se ha una bella scia energetica attraverso i social network, è un segno di grande vitalità. Quindi io, insomma, noi ci proviamo molto, Ray3, tutti i nostri programmi hanno una grande spinta sul web, cerchiamo di far sì che nascano delle comunità, la nascita di una comunità è qualcosa che fidelizza il pubblico a un programma e in più permette anche a tante persone che magari non l'avrebbero vista con la televisione, la voglia di stare lì a commentarla e a commentarla intrecciandosi con tutte le persone che seguono o che sono amiche attraverso i social network è un'opzione in più. Quindi io penso che l'interazione col web, che poi avverrà attraverso app, vedrete che ci sarà sempre più innovazione sotto questo punto di vista, sia un qualcosa che dà vitalità anche alla vecchia tv generalista che eravamo abituati a guardare passivi sul divano. Ora la guardiamo più attivi, la guardiamo e la commentiamo nello stesso tempo, per me è un segno molto positivo. Va bene, ringraziamo il direttore Andrea Vianello. Grazie a voi. Grazie.